era uno di quei freschi e vuoti pomeriggio di principio d'inverno quando la luce del giorno tende più all'argento che all'oro e più allo stagno che all'argento ma l'inconico in centinaia di uffici squallidi e sbadiglianti salotti lo era ancora di più lungo i margini della piatta costa dell'Essex dove la monotonia era ancora più inumana perché interrotta ad intervalli molto lunghi da un lampione che sembrava meno civile di un albero o da un albero che sembrava più brutto di un lampione un lieve strato di neve si era quasi disciolto nei pochi solchi che sembravano più di piombo che d'argento ed era stato di nuovo fissato dal sugello del gelo non era caduta nuova neve ma una striscia della vecchia correva proprio lungo il margine della costa quasi parallela alla pallida striscia di schiuma la linea del mare appariva gelata nella grande vividezza del suo turchino violetto come la vena di un dito gelato per miglia e miglia in una direzione e nell'altra non vi era anima viva salvo due pedoni che camminavano a passo svelto uno di essi con gambe molto più lunghe e a passi molto più lunghi dell'altro quello non pareva luogo né tempo adatto ad una vacanza ma padre brown aveva poche vacanze e le prendeva quando poteva vacanze che egli preferiva sempre se possibile godere in compagnia del suo amico flambeau ex delinquente ed ex detective il prete aveva avuto il ticchio di visitare la sua vecchia parrocchia di Gob Hall e camminava in direzione nord-est lungo la costa dopo aver proseguito per un miglio o due essi trovarono che la spiaggia cominciava ad essere regolarmente arginata così da formare come un campo i brutti lampioni divenivano meno scarsi e lontani fra di loro e più ornamentali benché ugualmente brutti mezzo miglio più avanti padre brown fu stupito da qualche cosa di simile a piccoli labirinti di vasi da fiori senza fiori coperti da piante basse e leggermente colorate che avevano meno l'aspetto di un giardino che di un pavimento intarsiato tra curvi viali ingombri di sedie dai dorsi ricurvi gli parve di sentire la lieve atmosfera di una specie di città di mare e guardando avanti lungo la spianata presso il mare vide qualche cosa che gli tolse ogni dubbio nella grigia distanza un grande stabilimento balneare si innalzava come un gigantesco fungo a sei gambi suppongo disse padre brown alzandosi il bavero e stringendosi al collo la sciarpa di lana che noi ci avviciniamo ad un luogo di piacere un luogo di piacere? rispose flambeau che poche persone giusto ora hanno il piacere di frequentare essi tentano di ravvivare questi posti nell'inverno ma ciò non è mai riuscito tranne a bricton e in alcuni altri vecchi luoghi questo deve essere seawood credo esperimento di lord pullei che vi ha tenuto dei cantanti siciliani sino a natale e ancora si parla di un grande torneo ma essi dovranno gettare il putrido edificio nel mare è fosco come una carrozza ferroviaria abbandonata erano giunti sotto il grande stabilimento ed il prete guardava in su con una curiosità che era piuttosto strana dato il luogo con la testa un po' inclinata da un lato come un uccellino la costruzione era del solito tipo di cattivo gusto una cupola schiacciata una specie di baldacchino dorato che si innalzava sopra sei esili pilastri di legno dipinto il tutto ad un'altezza di circa cinque piedi dal suolo grazie ad una rotonda piattaforma di legno simile ad un tamburo ma la neve unita a quegli ornamenti d'oro finto aveva qualcosa di fantastico che ossessionò Flambeau e il suo amico con un'associazione di idee inafferrabile ma al tempo stesso artistica e bizzarra ho capito disse Flambeau alla fine è giapponese è simile a quelle fantasiose stampe giapponesi dove la neve sulle montagne sembra zucchero e l'odoratura delle pagode è simile all'odoratura del pan di zenzero sembra proprio un piccolo tempio pagano sì disse padre Brown andiamo a dare un'occhiata al dio e con un'agilità che difficilmente ci si sarebbe aspettati da quell'ometto balzò sulla piattaforma sopraelevata oh molto bene disse Flambeau ridendo e l'istante successivo la sua torreggiante figura era visibile sulla pittoresca piattaforma nonostante la lieve differenza di altezza il palco forniva in quella piatta distesa la sensazione di una visuale ancora più estesa che spaziava a lungo la terra ed il mare nell'entroterra i piccoli giardini invernali sbanivano in una confusa macchia grigia più oltre in lontananza si trovavano i lunghi e bassi fienili di una fattoria isolata e oltre ancora null'altro che le lunghe pianure dell'est Anglia sul mare non c'era alcuna vela o segno di vita tranne pochi gabbiani e persino gli uccelli sembravano gli ultimi fiocchi di neve fluttuanti piuttosto che in volo Flambeau si girò improvvisamente in seguito ad un'esclamazione pronunciata alle sue spalle sembrava provenire da molto più in basso di quanto ci si sarebbe potuti aspettare ed era rivolta ai suoi talloni piuttosto che alla testa istantaneamente allungò la mano ma non poter reprimere una risata di fronte a ciò che vide per qualche ragione la piattaforma aveva ceduto sotto padre Brown e lo sfortunato metto era caduto di sotto era alto appena anzi meglio dire basso da riuscire a far spuntare solo la testa dal buco del legno rotto assomigliando in tal modo alla testa di San Giovanni Battista su di un piatto d'argento il volto presentava un'espressione sconcertata come quella forse di San Giovanni Battista subito dopo iniziò a ridere debolmente questo legno deve essere marcio disse Flambeau sebbene mi sembri strano che regga a me mentre voi siete sprofondato in un punto debole lasciate che vi aiuti però il piccolo sacerdote stava osservando piuttosto curiosamente gli angoli e i bordi del legno supposto marcio e la sua fronte fu sfiorata da un'ombra su! esclamò Flambeau impazientemente ancora con la grossa mano abbronzata e tesa non volete uscire? il sacerdote stava tenendo una scheggia del legno rotto tra le dita e non replicò immediatamente alla fine disse pensoso volere uscire? beh no penso piuttosto di volere entrare e si tuffò nell'oscurità sotto il pavimento di legno così all'improvviso da far volar via il suo grande cappello clericale ricurvo che ricadde sulle assi privo di qualsiasi testa clericale Flambeau guardò nuovamente verso l'entroterra e verso il mare e nuovamente non riuscì a vedere nulla se non un mare invernale come la neve ed una neve piatta come il mare dietro di lui giunse un suono frusciante e il piccolo sacerdote sgusciò dal buco più in fretta di come vi era caduto il suo viso non era più sconcertato ma piuttosto risoluto e forse solo per il riflesso della neve un poco più pallido del solito allora? chiese il suo alto amico avete trovato il dio del tempio? no rispose padre Brown ho trovato ciò che alle volte era più importante il sacrificio cosa diavolo state dicendo? esclamò Flambeau piuttosto allarmato padre Brown non rispose stava fissando con la fronte corrucciata il paesaggio e improvvisamente indicò cos'è quella casa laggiù? domandò seguendo il dito dell'amico Flambeau vide per la prima volta agli angoli di un edificio più vicino della fattoria ma schermato per la maggior parte da un filare di alberi non si trattava di un grosso edificio ed era ben lontano dalla riva però uno scintillio dovuto a delle decorazioni suggeriva che facesse parte dello stesso schema decorativo della stazione balneare in cui erano inclusi il palco della banda i piccoli giardini e le panchine di ferro dagli schienali recurvi padre Brown scese con un balzo dal palco seguito dall'amico e mentre camminavano nella direzione indicata gli alberi si aprirono a destra e a sinistra e i due videro un piccolo albergo piuttosto vistoso di quelli tipici nei luoghi di villeggiatura più saloon che sala da te quasi tutta la facciata era di stucchi dorati e vetri decorati e tra quel grigio paesaggio e grigi alberi estregati l'aspetto appariscente dell'edificio aveva qualche cosa di spettrale nella sua melanconia Brown e Flambeau immaginarono vagamente che se in quell'albergo fosse stato offerto loro del cibo o delle bevande sarebbe stato del prosciutto di carta pesta e il boccale vuoto delle pantomime in ciò tuttavia furono smentiti mentre si avvicinavano sempre di più a quel luogo videro di fronte alla sala da pranzo che sembrava apparentemente chiusa una di quelle panchine di ferro dallo schienale ricurvo che adornavano i giardini ma molto più lunga che correva quasi lungo tutta la facciata presumibilmente era sistemata così per permettere agli ospiti di sedere là e guardare il mare ma difficilmente ci si sarebbe aspettati di trovare qualcuno a farlo con un tempo simile comunque proprio di fronte ad un'estremità della panchina di ferro c'era un piccolo tavolo rotondo da ristorante e su di esso si trovava una piccola bottiglia di chablis ed un piatto di mandorle e uva passa dietro il tavolo su di una sedia sedeva un giovane dai capelli scuri senza cappello che fissava il mare in uno stato di mobilità quasi stupefacente però sebbene sarebbe potuto passare per una statua di cera quando i due si trovavano a circa quattro metri da lui giunti a tre metri il giovane sobbalzò come un saltamartino e disse con modi deferenti sebbene dignitosi signori desiderate entrare al momento non ho personale ma posso servirvi io molto obbligato disse flambò così voi siete il proprietario sì disse l'uomo dai capelli scuri ritornando un poco al suo atteggiamento immobile i miei camerieri sono tutti italiani vedete ed io ho pensato che fosse giusto permetter loro di vedere il loro compatriota battere il negro se realmente è capace di farlo sapete della grande lotta che sta avvenendo fra malvoli e nigger ned non vogliamo abusare seriamente della vostra ospitalità disse padre brown ma il mio amico berrebbe volentieri un bicchiere di vino xeres certo per scacciare il freddo e brindare al successo del campione latino flambò non si intendeva di xeres tuttavia non fece obiezione alcuna ma si limitò a dire cortesemente oh vi ringrazio moltissimo xeres signore certamente disse il loro ospite volgendosi verso l'albergo scusatemi se vi faccio aspettare pochi minuti come vi ho detto non ho personale ed egli andò verso le scure finestre del suo albergo chiuso e senza luce oh veramente non importa cominciò flambò ma l'uomo tornò a rassicurarlo ho le chiavi disse e posso trovare la strada al buio io non intendevo dire cominciò padre brown ma fu interrotto da una sbraitante voce umana proveniente dall'interno del disabitato albergo essa tuonava chiamando un nome straniero in modo rumoroso ma incomprensibile ed il proprietario dell'albergo si mosse verso la voce più rapidamente che non avesse fatto per lo xeres di flambò come apparve subito manifesto il proprietario aveva detto prima e poi nient'altro che la pura verità se non che sia flambò che padre brown hanno spesso confessato che in tutte le loro avventure sovente paurose niente agghiacciò loro più il sangue come quella voce di orso risonante improvvisamente da un albergo silenzioso e vuoto è il mio cuoco gridò il proprietario in fretta avevo dimenticato il cuoco egli sta per andarsene proprio ora xeres signore ed ecco nel vano della porta una grande bianca figura con bianca berretta e bianco grembiale come si addice ad un cuoco con una faccia nera che contrastava stranamente con quel bianco flambò aveva spesso sentito dire che i neri possono diventare buoni cuochi ma in certo modo quel contrasto di colore e di razza accrebbe la sua sorpresa per il fatto che il proprietario rispondeva alla chiamata del cuoco e non il cuoco alla chiamata del proprietario ma egli riflettè che testa di cuoco è proverbialmente arrogante inoltre l'ospite era tornato con l'oxeres e questa era una gran cosa io sono piuttosto meravigliato disse padre brown che vi sia così poca gente sulla riva mentre avviene la grande lotta noi non abbiamo incontrato più di un uomo lungo un miglio il proprietario dell'albergo crollò le spalle gli spettatori vengono dall'altra estremità della città vedete dalla stazione a tre miglia da qui essi vengono soltanto per lo spettacolo sportivo e si fermano negli alberghi soltanto una notte dopo tutto non è tempo adatto a riscaldarsi sulla spiaggia o sopra di una sedia disse flambeau indicando la piccola tavola io sono qui per sorvegliare disse l'uomo con faccia immobile egli era un individuo tranquillo di lineamenti regolari piuttosto scialbo e indossava vestiti scuri che non avevano alcunché di notevole soltanto la cravatta nera era portata alquanto in alto come un collare da prete e fermata da una spilla d'oro con una testa grottesca né vi era alcunché di notevole sulla faccia dell'uomo salvo qualche cosa come un'espressione di ticchio nervoso l'abitudine di tenere socchiuso un occhio come se l'altro fosse più grande o forse artificiale il silenzio che seguì fu rotto dall'ospite e disse tranquillamente dove avete incontrato il primo uomo del vostro cammino è curioso assai rispose il prete qui vicino proprio vicino a quella piattaforma flambò che si era seduto lungo il sedile di ferro per terminare il suo vino posò il bicchiere e si levò in piedi guardando fisso il suo amico con meraviglia aprì la bocca per parlare ma subito la richiuse curioso disse l'uomo dei capelli scuri pensierosamente e che cosa cercava? era già piuttosto scuro quando lo vidi cominciò padre Brown ma era come è stato detto il proprietario dell'albergo aveva affermato la precisa verità la sua affermazione che il cuoco stava per andarsene era esatta alla lettera perché il cuoco venne fuori mettendosi i guanti mentre essi parlavano ma era una figura molto diversa dalla confusa figura bianca e nera che era apparsa prima per un istante nel vano della porta ora era bottonato e girava i globi sporgenti dei suoi occhi nella più brillante maniera e teneva un cappello nero a cilindro inclinato sulla larga testa nera un cappello di quella specie che lo spirito francese ha paragonato ad otto riflessi ma in qualche modo quel nero assomigliava al nero del cappello anche egli era nero e con la pelle lucente che proiettava i riflessi ad otto angoli e di più è inutile dire che egli portava le ghette bianche ed un'orlatura bianca al panciotto un fiore rosso si ergeva aggressivo dall'occhiello come se fosse improvvisamente cresciuto là e nella maniera con la quale portava il bastone in una mano ed il sigaro nell'altra vi era di certo un atteggiamento di quelli che noi dobbiamo sempre ricordare quando parliamo di pregiudizi di razza un che d'ingenuo ed insolente qualche volta disse flambò seguendolo con lo sguardo non mi sorprende il fatto che li linciano non sono mai sorpreso disse padre brown di fronte a qualunque opera dell'inferno dunque stavo dicendo riprese mentre il cuoco che si stava ancora infilando ostentatamente i guanti gialli si dirigeva rapidamente verso la stazione balneare una bizzarra figura d'avanspettacolo stagliata contro la scena grigia e gelida dunque dicevo che non potrei descrivere quell'uomo nei particolari però aveva dei folti favoriti di foggia antiquata scuri o tinti come nelle fotografie dei finanzieri stranieri e attorno al collo portava a volta una lunga sciarpa rossa che sventolava al vento mentre camminava era fermata sulla gola nel modo in cui le balie fermano quelle dei bambini con una spilla di sicurezza solo che aggiunse il sacerdote fissando placidamente il mare non si trattava di una spilla di sicurezza l'uomo seduto sulla lunga panchina di ferro stava anche lui fissando placidamente il mare ora che era nuovamente tranquillo flambò fu quasi certo che uno degli occhi del giovane fosse naturalmente più largo dell'altro adesso erano entrambi ben aperti e flambò pote quasi immaginare l'occhio sinistro allargarsi mentre guardava si trattava di un fermaglio d'oro molto lungo con la testa di una scimmia o qualche cosa di simile continuò il sacerdote ed era fissata in una maniera alquanto strana portava i pinznesse e un'ampia nera l'uomo immobile continuava a fissare il mare e i suoi occhi avrebbero benissimo potuto appartenere a due uomini diversi poi eseguì un movimento di vertiginosa rapidità padre brown gli volgeva la schiena e a causa di quel gesto fulminio avrebbe potuto cadere dritto sulla faccia flambò non aveva armi ma le sue grandi mani abbronzate erano appoggiate all'estremità della lunga panchina di ferro le sue spalle mutarono improvvisamente di forma ed il francese sollevò l'intera enorme struttura sopra la testa come la mannaia del boia pronta a calare la semplice altezza della panchina mentre la sorreggeva in verticale sembrava simile ad una lunga scala di ferro con cui invitasse gli uomini a salire verso le stelle però la lunga ombra nella piatta luce serale sembrava simile a quella di un gigante che reggeva la torre Eiffel fu lo shock di quell'ombra prima dello shock dello schianto del ferro che fece abbassare lo sconosciuto gli permise di schivare il colpo e poi di balzare verso l'albergo lasciando cadere il piatto pugnale scintillante esattamente dove si trovava dobbiamo andarcene di qui subito esclamò flambò scagliando verso la spiaggia l'enorme panchina con furiose indifferenze afferrò quindi il piccolo sacerdote per il gomito e lo trascinò attraverso il grigio paesaggio di un giardino spoglio alla cui estremità si trovava una porta chiusa flambò si appoggiò su di essa spingendola violentemente per un istante in silenzio e poi disse è chiusa chiave mentre parlava un ciuffo nero cadde da uno degli abeti ornamentali sfiorandogli il bordo del cappello questo stupì il francese più di quanto lo aveva fatto la piccola e lontana detonazione che era venuta proprio un istante prima poi ne sopraggiunse un'altra e la porta che stava cercando di aprire tremò sotto l'impatto della palloppola piantatasi nel pannello nuovamente le spalle di flambò si gonfiarono e mutarono aspetto tre cardini della porta si spezzarono nello stesso istante e flambò si trovò fuori sul sentiero vuoto trascinandosi dietro la grande porta come fece Sansone con i cancelli di Gaza quindi scagliò la porta oltre il muro di cinta del giardino proprio quando un terzo colpo sollevava uno schizzo di neve e di polvere alle sue calcagna senza cerimonie sollevò il piccolo sacerdote sistemandolo a cavalcioni sulle sue spalle e si diresse di corsa verso Seawood con la maggiore celerità che le sue lunghe gambe potevano sopportare fu solo dopo circa due miglia che fece scendere il suo compagno non era certo stata una fuga dignitosa nonostante l'esempio classico di Anchise ma il viso di padre Brown mostrava soltanto un ampio sorriso beh disse Flambò dopo un impaziente silenzio mentre riprendevano un passo più convenzionale attraverso le strade al limitare della città dove non c'era da temere alcun altro attentato non so cosa significhi tutto ciò ma sono certo di potermi fidare dei miei occhi non avete mai incontrato l'uomo che avete così accuratamente descritto in un certo senso lo ho incontrato disse padre Brown mordendosi il dito piuttosto nervosamente davvero ma era troppo buio per vederlo chiaramente perché si trovava sotto il pavimento del palco però temo dopo tutto di non averlo descritto così accuratamente perché i suoi pinzness erano rotti sotto di lui e il lungo fermaglio d'oro non era infilato attraverso la sciarpa porpora ma nel suo cuore e suppongo disse l'altro a voce bassa che il tizio dall'occhio di vetro abbia qualche cosa a che fare con questa storia avevo sperato che vi fosse coinvolto soltanto in parte rispose padre Brown con voce alquanto preoccupata e posso essermi sbagliato nel modo di comportarmi ho agito d'impulso però temo che questa faccenda abbia radici profonde ed oscure camminarono lungo le strade in silenzio i lampioni gialli stavano iniziando ad illuminarsi nella fredda luce bluastra del tramonto e i due si stavano evidentemente avvicinando al centro della città manifesti colorati che annunciavano l'incontro di pugilato tra nigger ned e malvoli erano affissi su tutti i muri beh disse flambò non ho mai assassinato nessuno persino quando ero un criminale però posso quasi simpatizzare con chiunque lo faccia in un luogo così orribile di tutte le pattumiere della natura dimenticate da dio penso che i luoghi che spezzino maggiormente il cuore siano quelli come quel palco e dovevano servire per festeggiare e invece sono abbandonati posso capire che un uomo morboso possa sentire il desiderio di uccidere il suo rivale nella solitudine e nell'ironia di una scena simile mi ricordo che una volta stavo facendo una passeggiata nelle vostre gloriose colline del Sarrai senza pensare a nulla se non alle ginestre alle allodole quando giunsi in una vasta pianura sopra di me sorgeva un'enorme struttura silenziosa una fila dopo l'altro di gradinate enorme come un anfiteatro romano e vuoto come un casellario per le lettere senza missive un uccello si librava nel cielo sopra quella scena si trattava del grande stadio di Epsom e sentì che nessuno sarebbe mai più stato felice in quel luogo è strano che tu abbia citato Epsom disse il sacerdote ti ricordi di quello che venne definito il mistero di Satton perché due uomini sospettati dei gelatai credo vivevano a Satton in seguito furono rilasciati si diceva che un uomo venne ritrovato strangolato sui dons da quelle parti anzi so da un poliziotto irlandese che è mio amico che l'uomo venne trovato molto vicino al grande stadio di Epsom nascosto da una delle porte inferiori che era stata aperta è strano assentì flambò però conferma il mio punto di vista che tali luoghi di divertimento sembrano orribilmente solitari fuori stagione altrimenti l'uomo non sarebbe stato assassinato là non sono così sicuro che cominciò a dire padre brown ma poi si fermò non siete così sicuro che sia stato assassinato domandò il suo compagno non sono così sicuro che sia stato assassinato fuori stagione rispose il piccolo sacerdote con semplicità non credi che ci sia qualcosa di alquanto intrigante in questa solitudine flambò sei sicuro che un omicida in gamba voglia sempre che il luogo sia solitario e molto molto raramente un uomo è davvero solo e a parte ciò più è solo più certamente è sicuro che venga notato no credo che ci sia qualche altro beh eccoci al pavilion o al palace o come lo chiamano erano sbucati in una piccola piazza fortemente illuminata il cui edificio principale era ravvivato da dorature colorato da manifesti e fiancheggiato da due fotografie giganti di malvoli e nigger ned ehi esclamò flambò con grande sorpresa mentre il suo amico sacerdote saliva deciso gli ampi scalini non sapevo che il pugilato fosse il vostro nuovo passatempo state andando a vedere l'incontro non credo che ci sarà nessun incontro replicò padre brown superarono rapidamente l'anticamera e le stanze interne poi superarono l'arena dotata di innumerevoli posti a sedere e di palchi e il quadrato sopraelevato e ancora il sacerdote non si guardò attorno o si fermò fino a quando non giunse di fronte ad un impiegato seduto ad un tavolo davanti ad una porta con su scritto comitato lì si fermò e chiese di vedere lord Puley l'impiegato fece osservare che sua signoria era molto impegnato poiché l'incontro sarebbe iniziato di lì a poco ma padre brown possedeva una capacità di ripetizione gentile e noiosa contro la quale le menti burocratiche non sono generalmente preparate dopo pochi istanti l'alquanto sconcertato flambò si ritrovò alla presenza di un uomo che stava ancora strillando ordini ad un altro uomo che stava uscendo dalla stanza badate sapete alle corde dopo le quarte ebbene voi cosa volete lord Puley era un gentiluomo e come la maggior parte dei pochi superstiti della nostra razza infastidito specialmente da questione di danari era mezzo grigio e mezzo biondo aveva occhi febbrili e naso ricurvo freddo e sporgente una parola disse padre brown sono venuto per impedire che un uomo sia ucciso lord Puley saltò dalla sua sedia come spinto da una molla che sia dannato se io tollererò più qualche cosa di simile gridò ne ho abbastanza dei vostri comitati di preti e di petizioni non vi erano forse preti nei tempi antichi quando lottavano senza guanti ora essi lottano con i guanti che regolano la violenza dei colpi e non vi è briciola di possibilità che l'uno o l'altro dei due boxers sia ucciso io non intendevo dire l'uno o l'altro dei boxers disse il piccolo prete bene 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 disse il nobiluomo con una punta di fredda ironia chi sarà allora l'ucciso l'arbitro io non so chi rimarrà ucciso replicò padre brown con uno sguardo meditativo se lo avessi saputo non vi avrei recato disturbo lo indurrei semplicemente a scappare io non ho mai potuto vedere qualche cosa di irregolare nei combattimenti di pugilatori stando le cose come sono vi prego di annunziare che l'incontro è rimandato vede l'altro ancora chiese beffardamente il gentiluomo con occhi febbrili e cosa direte alle duemila persone che sono venute a vedere la lotta io dico che ve ne saranno 1999 di vive quando avranno visto la lotta disse padre brown lord puley guardò flambù è matto il vostro amico domandò tutt'altro rispose e guardate rispose puley con il suo modo irrequieto vi è qualche cosa di peggiore di questo tutta una schiera di italiani si è presentata a spalleggiare malvoli o se non sono italiani sono dei tipi bruni e selvaggi di chissà quale paese voi sapete che queste razze mediterranee sono tutte uguali se annunzio che la lotta è rimandata avremo malvoli addosso a capo dell'intero clan corso signore mio è questione di vita o di morte disse il prete suonate il campanello e date l'ordine e vedrete se malvoli risponde il nobiluomo batte il campanello sulla tavola con una strana aria di curiosità nuova disse al commesso che apparve quasi istantaneamente nel vano della porta ho una seria comunicazione da fare brevemente al pubblico intanto vogliate gentilmente dire ai due campioni che la lotta è rimandata il commesso lo fissò per qualche secondo come se fosse un demonio e sparì quale autorità avete voi per dirmi ciò domandò Lord Pule improvvisamente chi avete consultato ho consultato uno stabilimento disse padre Brown grattandosi la testa ma no ho torto ho consultato anche un libro comprato in un edicolo a Londra e molto a buon mercato tra l'altro trasse di tasca un volume piccolo ma solido rilegato in cuoio e flambò guardandolo al di sopra della spalla del prete pote vedere che si trattava di un vecchio libro di viaggi che aveva un foglio piegato per richiamo il solo modo nel quale voodoo cominciò padre Brown leggendo ad alta voce nel quale cosa chiese sua signoria nel quale voodoo ripeté il lettore quasi con gusto appare ampiamente diffuso fuori dalla giamaica e la forma conosciuta come la scimmia o diogong potente in molte parti dei due continenti americani specialmente tra uomini di razza mista molti dei quali sembrano nell'aspetto dei veri e propri bianchi essa differisce dalla più parte delle altre forme di culto del demonio e del sacrificio umano per il fatto che il sangue non è versato formalmente sull'altare ma da una specie di assassino fra la folla i gong battono con assordante fragore non appena le porte del tavernacolo si aprono e il dio scimmia è rivelato quasi tutta la congregazione fissa gli occhi estatici sopra di esso ma poi la porta della camera si spalancò e l'elegante nero apparve in piedi inquadrato da essa roteando i globi degli occhi aveva il cappello di seta ancora insolentemente inclinato sulla testa grido egli mostrando i suoi denti di scimmia che significa questo voi rubate il premio ad un gentiluomo di colore il suo premio già voi pensate sì di salvare quella bianca robaccia italiana lo scontro è soltanto di ferito disse il nobiluomo tranquillamente vi darò spiegazione fra un minuto o due chi voi ha gridò nigger ned cominciando a minacciare io mi chiamo pulei replicò l'altro con lodevole calma io sono il segretario organizzatore e vi avverto di andarvene immediatamente da questa camera chi è quel tizio chiese il campione indicando sdegnosamente il sacerdote il mio nome è padre brown fu la risposta e vi consiglio di lasciare subito il paese il pugile rimase con lo sguardo fisso per alcuni secondi e poi con sincera sorpresa di flambeau e degli altri uscì sbattendo sonoramente la porta dietro di sé bene chiese padre brown ravviandosi i capelli opachi cosa ne pensate di leonardo da vinci una bellissima testa italiana sentite disse lor pulei mi sono assunto una considerevole responsabilità fidandomi solo delle vostre parole credo che mi dobbiate dire qualche cosa in più su questa faccenda avete ragione signore rispose padre brown e non ci vorrà molto per dirvele e rimise il piccolo libro di pelle nella tasca del suprabito credo che sappiamo tutti ciò che può dirci questo libro ma dovrete darci un'occhiata per vedere se ho ragione quell'uomo che se ne è appena andato è uno degli uomini più pericolosi della terra perché ha il cervello di un europeo unito all'istinto di un cannibale ha trasformato ciò che era un semplice e sensato massacro tra i suoi compagni barbari in una società segreta di assassini assai moderna e scientifica lui non sa che io lo so né che posso provarlo ci fu un totale silenzio e l'umetto proseguì però se volessi uccidere qualcuno sarebbe il piano migliore quello di essere sicuro di rimanere da solo con lui gli occhi di Lord Pulley ripresero il loro gelido movimento mentre fissavano il piccolo sacerdote si limitò a dire se volete uccidere qualcuno vi darei questo consiglio padre Brown scosse il capo come un assassino di molta esperienza così ha detto Flambeau replicò con un sospiro però riflettete più un uomo si sente solo meno può essere sicuro di essere solo deve avere degli spazi vuoti attorno a lui e queste sono proprio le cose che lo rendono visibile non avete mai visto un uomo che ara la cima di un monte o un pastore in una valle non avete mai camminato lungo una scogliera e avete visto un uomo camminare sulla sabbia non vi sareste accorto se avesse ucciso un granchio e se si fosse trattato di un creditore no 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 per un assassino intelligente come lo potremo essere voi o io è un piano impossibile fare in modo di essere certi che nessuno vi stia osservando però quale altro piano esiste soltanto uno disse il prete fare in modo che tutti gli altri stiano guardando qualcos'altro un uomo viene strangolato vicino al grande stadio di Epson chiunque avrebbe potuto vedere il fatto mentre l'anello era vuoto qualunque vagabondo sotto i cespugli o un'automobilista sulle colline però nessuno lo avrebbe notato mentre lo stadio era pieno e l'intero anello in tribudio perché il campione stava per vincere oppure perdere la torsione di un laccio l'infilare un corpo dietro una porta potrebbe essere eseguito in un istante fin tanto che si tratti di quell'istante è stato lo stesso ovviamente continuò girandosi verso flambeau con quel poveretto sotto il palco della banda è stato calato attraverso il buco non era un buco accidentale proprio nel momento di qualche evento drammatico dello spettacolo quando l'archetto di qualche grande violinista o la voce di qualche grande cantante iniziava o giungeva al suo culmine e qui ovviamente quando sarebbe giunto il colpo finale non sarebbe stato l'unico questo è il piccolo trucco che Nigar Ned ha adottato derivandolo dal suo vecchio dio del gong comunque Malvoli cominciò a dire Puley Malvoli disse il sacerdote non ha nulla a che fare con questa storia potrei dire che ha alcuni italiani con sé ma i nostri amabili amici non sono italiani sono meticci e mezzosangue africani di vari tipi ma temo che noi inglesi consideriamo gli stranieri tutti uguali fin tanto che sono scuri e sporchi inoltre aggiunse con un sorriso temo che gli inglesi si rifiutino di tracciare una netta distinzione tra la morale prodotta dalla mia religione e quella che nasce dal voodoo il fulgore della primavera era esploso a Seawood punteggiando le sue spiagge di famiglie e di cabine di predicatori erranti e di menestrelli di colore prima che i due amici la vedessero nuovamente molto tempo prima che la tempesta causata dalla caccia alla strana società segreta si fosse calmata quasi ovunque il segreto del loro proposito era perito con loro l'uomo dell'albergo venne trovato morto in mare che galleggiava come un'alga il suo occhio destro era chiuso in pace ma il sinistro era spalancato e scintillava come un vetro sotto la luna Negarned raggiunto uno o due miglia lontano aveva ucciso tre poliziotti con il suo pugno sinistro l'agente superstite rimase sorpreso e il nero scappò ma ciò bastò per mettere tutti i giornali inglesi in grande ardore e per un mese o due il principale proposito dell'impero britannico fu impedire che l'elegante daino nero tale egli era in tutti e due i sensi sfuggisse da qualche porto inglese le persone che avevano qualche dubbio a rassomiglianza con lui furono sottoposte ad indagini severe le loro facce dovevano prima dell'imbarco subire vigorosi strofinii come se ciascuna carnagione bianca fosse fetto di una maschera di vernice grassa ogni nero in inghilterra era sottoposto ad un regolamento speciale e doveva render conto dei suoi atti le navi che partivano non volevano saperne di prendere neri più che non volessero basilischi perché il popolo aveva indovinato come temibile vasta e silenziosa fosse la forza della selvaggia segreta società così che quel giorno d'aprile in cui flambò e padre brown erano appoggiati al parapetto della spianata l'uomo nero suscitava in inghilterra quasi la stessa sensazione che una volta suscitava in iscozia egli deve essere ancora in inghilterra osservò flambò ed è anche ben nascosto dovrebbero averlo trovato in qualche porto se egli si fosse sbiancato la faccia vedete egli è realmente un uomo abile disse padre brown graziosamente ed io sono sicuro che egli non si imbiancherebbe la faccia sì ma che cosa farebbe penso disse padre brown che egli se la annerirebbe flambò appoggiato immobile sul parapetto rise e disse mio caro compagno e padre brown anche egli appoggiato immobile sul parapetto mosse un dito per un istante in direzione dei neri dalle facce ricoperte di fuligine che cantavano sulle arene grazie per l'ascolto se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri puoi fare una piccola donazione su paypal o ko-fi tramite il link che trovi in descrizione inoltre se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro puoi trovarli anche su spreaker spotify ed apple podcast grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.